San Celestino I Originario della Campania, venne eletto Papa il 10 settembre del 422, acclamato dal clero e dal popolo. Si batté contro l'eresia di Nestorio, patriarca di Costantinopoli, che negava alla Madonna il titolo di Madre di Dio. Il 7 giugno del 431 guidò il Sinodo, che condannò l'eresia di Nestorio e proclamò la legittimità del termine Madre di Dio. A Roma fece restaurare la Basilica Giulia, l'attuale Santa Maria in Trastevere, e poi fece costruire la Basilica di Santa Sabina sull'Aventino. Durante il suo pontificato, inviò molti evangelizzatori in Europa, fra loro Germano di Oxer, in Bretagna, e Palladio, in Irlanda. Morì il 27 luglio del 432, le sue spoglie sono sepolte nel cimitero di Priscilla. Grazie a tutti.